Città metropolitana di Torino e nuove province del Piemonte. Questo è il titolo della due giorni di incontri iniziata mercoledì 10 giugno nella sede della città metropolitana di Torino in Corso Inghilterra. L'incontro fa parte del percorso di affiancamento e di laboratori sul territorio proposti alle amministrazioni nell'ambito del progetto PON-GAS verso la costituzione delle aree metropolitane e la riorganizzazione delle province che Formez-PA realizza per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il laboratorio sulla città metropolitana di Torino e sulle province piemontesi si inserisce in questo percorso per offrire un disegno dello scenario della riforma e approfondire alcune tematiche relative al piano di riassetto delle province che la legge 190-2014 stabilisce debba essere predisposto entro giugno 2015. I due giorni di lavoro alternano sessioni in plenaria e sessioni di lavoro articolate a loro volta in contributi esperti su aspetti specifici della riforma del Rio e discussioni condotte con metodologie di facilitazione. Architetto Pinelli, il Formez ha organizzato questa iniziativa che oggi è ospitata alla città metropolitana di Torino. In cosa consiste? Consiste in un laboratorio di due giorni che noi abbiamo organizzato d'intesa con l'Unione delle province piemontesi proprio per dare vita a un dibattito su uno scenario di riforma molto importante che riguarda la città metropolitana e le province. Il nostro programma di assistenza è rivolto a tutte le province italiane e a tutte le città metropolitane e infatti abbiamo intenzione di replicare questo tipo di attività anche in altre realtà perché crediamo che la fertilizzazione delle esperienze, delle criticità, delle opportunità che derivano dall'attuazione della legge del Rio possa essere un momento di riflessione utile a far capire quali sono non solo le criticità che sicuramente ci sono ma anche le opportunità per rivalutare il nuovo ente, la nuova provincia che dovrebbe svolgere un ruolo importantissimo anche in chiave di coordinamento. Le città metropolitane non sono fatte per i cittadini che vivono sul territorio perché per questi abbiamo i comuni. Non è che la città metropolitana è un grande comune o una provincia del passato. La città metropolitana è fatta per lo sviluppo, per portare sviluppo al territorio, per portare sul territorio quello che non c'è, per valorizzare quello che già c'è sul territorio ma in una prospettiva di sviluppo. Quindi non bisogna pensare alla città metropolitana come a un ente che ha come obiettivo la comunità che risiede sul territorio perché se no è statica, se io devo solo dare i servizi che oggi sono necessari è un ente statico, invece questo è un ente dinamico, è un ente che deve portare qui quello che non c'è, è un ente che deve pensare se io voglio un'università di livello, se voglio che domani un dirigente che può scegliere fra Nuova Delhi, New York e Torino, scelga Torino, cosa devo fare, che tipo di infrastrutture devo avere, che tipo di ambiente devo garantirgli, se un'impresa multinazionale può investire nel territorio di Torino o nel territorio di Parigi, che cosa posso avere io di più concorrenziale di Parigi, questo è il compito delle città metropolitane.